Mork chiama Orson, Mork chiama Orson Ciao Mork, stavo per chiamarti io Cosa ti è successo? Mi stavo domandando se tutto quello che mi hai raccontato sulle traslazioni e sui moti rettilinei vale anche per le rotazioni Una buona domanda Orson In effetti ci sono molte analogie ma anche differenze tra i due casi Per prima cosa vediamo la descrizione, ovvero la cinematica Una traslazione è data da un vettore E la composizione di due traslazioni è data dalla somma dei vettori corrispondenti Ovvero dalla loro concatenazione Lo stesso vale per le velocità e per le accelerazioni Anche le rotazioni possono essere caratterizzate da un vettore Perpendicolare al piano di rotazione e che ha il senso positivo corrispondente a quello di avanzamento di una vite Ovviamente le viti che usano qui sulla Terra Per esempio, il moto di rotazione della Terra è identificato da un vettore che esce dal polo nord Ma la corrispondenza è giusta solo per la velocità di rotazione, la velocità angolare E per l'accelerazione angolare Per cui tali vettori si possono sommare Per le rotazioni, differentemente dalle traslazioni, la somma non vale Uimo, e perché? Perché non è lo stesso ruotare prima lungo un asse e poi lungo un altro che viceversa Puoi vederlo facilmente con un dado Metti il dado con l'uno in alto, il sei in basso Il due di fronte a te e supponiamo che il tre sia la tua sinistra Ruota il dado intorno all'asse verticale portando il tre di fronte a te E poi ruota intorno all'asse orizzontale L'uno finirà alla tua destra Adesso inverti l'ordine delle rotazioni Prima ruota orizzontalmente L'uno finirà alla tua destra Ma poi ruota intorno all'asse verticale E l'uno finirà dietro alla faccia davanti a te Dove ci sarà invece il sei Vero La somma vale solo per rotazioni infinitesime E quindi vale per le velocità e le accelerazioni Sia poi che la velocità tangenziale in una rotazione È uguale alla velocità angolare per il raggio E quindi le accelerazioni in una rotazione saranno uguali all'accelerazione angolare per il raggio E no Questo vale solo per l'accelerazione tangenziale Ma in un moto circolare c'è anche un'accelerazione centripeta Anche quando il moto avviene a velocità angolare costante Quindi con accelerazione angolare nulla L'accelerazione centripeta Che è diretta verso il centro È uguale al quadrato della velocità angolare per il raggio Che complicazione questi terrestri Il fatto è che tutte le volte che la velocità cambia C'è un'accelerazione E in un moto circolare La velocità cambia sempre di direzione Anche se il moto avviene a velocità angolare costante Conviene pensare alle forze Sempre usando la seconda legge di Newton F uguale M per A Se sei su un treno o su un'astronave che viaggia in linea retta Senti una forza solo quando l'astronave frena o accelera Ma se sei su una giostra Senti una forza sia quando la giostra parte o frena Forza diretta lungo il moto Come nel caso dell'astronave Ma anche quando la giostra gira a velocità angolare costante Devi aggrapparti Altrimenti voli via Vero Anche nella mia navicella quando faccio una virata Sento una forza che mi preme di lato Però Si può definire l'analogo della quantità di moto Che era massa per velocità Per le rotazioni abbiamo il momento della quantità di moto O momento angolare Che è un vettore sempre perpendicolare al piano di rotazione E che ha come modulo il prodotto tra massa, velocità e raggio Se si fa la somma per tutti i punti di un corpo rigido Si ottengono formule simili a quelle della traslazione Solo che invece della massa dobbiamo inserire il momento di inerzia Un'altra complicazione terrestre Il fatto è che non è lo stesso mettere in rotazione una ruota Che ha tutta la massa concentrata al centro O tutta la massa alla periferia Anche se le masse sono uguali La seconda è più difficile da mettere in rotazione E più difficile da frenare Perché ha un momento di inerzia più grande Quando si vuole stabilizzare un moto rotatorio Si inserisce un volano Che è un disco con grande momento di inerzia Ma adesso Ecco la sfida che ti piace tanto Dai, sono pronto Prendi una ruota di bicicletta E appendila a un filo attaccato a un lato del mozzo Se la lasci andare la ruota Ruoterà e andrà in posizione orizzontale Dato che il filo non è attaccato al centro di massa Giusto? Certo Ma se fai lo stesso con la ruota in rotazione Questa, invece di cadere Si metterà a precedere Ovvero resterà verticale Ma il mozzo comincerà a girare intorno al filo Vero? Magia? No! Il tutto è coerente con quello che succede nelle traslazioni Ma dobbiamo fare conti con i vettori Prova dai! Iniziando con le traslazioni Allora, vediamo Supponiamo che lascia cadere una palla da fermo All'inizio la sua quantità di moto era nulla E questa aumenta nella direzione della forza Che è verticale Se invece lancio la palla orizzontalmente Inizialmente la sua quantità di moto è orizzontale E piano piano la forza verticale la fa deviare Così che la palla segue una parabola Esatto! Adesso applica il tutto alla ruota Usando il momento della forza invece della forza Dunque Il momento della forza è la torsione Che ha l'effetto di far girare quella a cui è applicata Si definirà come un vettore dato dal prodotto tra forza e braccio E diretto perpendicolarmente al piano di rotazione Sulla ruota abbiamo la forza di gravità Nel centro di massa Ovvero nel mezzo del mozzo E la forza del filo Il loro momento sarà un vettore diretto perpendicolarmente Sia al mozzo che al filo In direzione orizzontale Quando lascia andare la ruota ferma Questa effettivamente gira intorno a tale vettore Ma se la ruota sta girando Ha un momento angolare Che è diretto lungo il mozzo Perpendicolarmente al momento della forza di gravità Caso analogo alla palla lanciata orizzontalmente Quindi il momento angolare Ovvero il mozzo Gira perché gli viene sommato il momento della forza Ma così facendo anche la ruota gira E anche il momento della forza Che è sempre perpendicolare al mozzo Ecco perché la ruota si mette a precedere E nel caso delle traslazioni Quando si ha un motosimile? Ah ho capito Se io lancio la palla Così velocemente da entrare in orbita In questo caso la forza di gravità È sempre perpendicolare alla velocità E in effetti la palla segue una traiettora circolare Divertente davvero questa sfida Alla prossima Orson Nano Nano Alla prossima Orson